Il trapianto evita è uno slogan molto efficace sviluppato dalle campagne AIDO per stimolare la donazione. Il trapianto evita è anche una realtà. Dopo il trapianto di fegato le sopravvivenze di lungo periodo sono molto elevate, c'è una sopravvivenza a 5 anni intorno all'80% e una sopravvivenza a 10 anni intorno al 70% nelle casistiche mondiali, confermate anche dalle casistiche italiane. Questo vuol dire che la mortalità residua superati i primi mesi che sono quelli più critici si affievolisce moltissimo, è ovvio che questi risultati fotografano quello che è stata l'attività di 5 anni fa e di 10 anni fa, quindi tutto in realtà è destinato essere ancora migliorabile e migliorato nel prossimo futuro. Non possiamo ipotizzare che la mortalità si arresti perché comunque il malato è destinato a vivere e ahimè la vita ha insita in sé il concetto che prima o poi termina. Quindi il malato farà una vita normale nel tempo, il piccolo bambino potrà crescere, potrà andare all'università, potrà sposarsi, la donna ancora fertile potrà partorire figli sani, si ritornerà a lavorare, si potrà fare attività fisica anche in maniera agonistica, tutto questo significa vita. A che prezzo? Al prezzo di continuare a essere virgolette malati cronici. Il trapiantato è un malato cronico che deve prendere tutti i giorni la medicina e deve fare periodicamente i controlli medici.